Io provo a leggere la partita, mi dica se è d'accordo. Primi dieci minuti, l'avete approcciata benissimo, la sorpresa Canutè da Finto 9 ha messo in difficoltà il Pescara, pressione con i biancazzurri che hanno sofferto, poi avete fatto una partita di grandissimo sacrificio contro un Pescara che ha costruito tanto nel secondo tempo. Sì, sono d'accordissimo con te, non solo i primi dieci minuti, io credo che il primo tempo è stato buonissimo per l'approccio e anche dopo il vantaggio abbiamo continuato comunque a dare pressione, a non far ragionare molto il Pescara e a creare in altre due o tre situazioni la possibilità di poter raddoppiare. Nel secondo tempo, come ho detto in precedenza ad altri colleghi, noi veniamo veramente da 15 giorni difficilissimi dove siamo stati falcidiati dall'influenza, quindi tanti ragazzi non giocavano da tanto, erano stati male, tanti l'abbiamo perso negli ultimi giorni, quindi la scelta di Canutè è dovuta naturalmente inizialmente alla defezione di Gambale. Allora a quel punto ho cercato di trovare la migliore soluzione, anche perché davanti anche Murano era stato colpito dall'influenza, quindi non avevamo grandi alternative e quindi ho pensato, visto che c'erano comunque due centrali molto forti fisicamente, naturalmente un po' più in difficoltà nel difendere la profondità, di giocarmi la carta Canutè, che credo che sia stato bravissimo. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, perché comunque le energie erano quelle che erano, grandi possibilità di poter cambiare in alcuni ruoli non ne avevo e quando poi naturalmente sei in vantaggio pensi di portare a casa il risultato. Pescara ha creato delle situazioni importanti, Pana ha fatto una grandissima parata, quindi se avesse pareggiato credo che non avrebbe rubato nulla, però siamo stati bravi a soffrire e a portare a casa tre punti fondamentali. L'analisi l'ha fatta completa, io le chiedo una cosa, perché ascoltavo l'intervista che faceva ai colleghi, ha detto che ha studiato il Pescara soprattutto nelle ultime sette-otto partite, ha una pecca, lì davanti concretizza poco, dovesse diventare più cinica? Diventa una squadra che vincerà tante partite, perché ha giocatori bravissimi nell'uno contro uno, saltano facilmente l'avversario, creano tante occasioni e poi l'essenza del calcio è il gol, quando poi non riesci a far gol devi sperare che gli avversari non lo facciano. Nel momento in cui questa squadra riuscirà ad essere più concreta, credo che vincerà tante gare, perché è una squadra che gioca bene, ha tanta qualità, ha una bella identità, quindi sono sicuro che nel giro di ritorno i ragazzi cresceranno di più, magari saranno più concreti e daranno le giuste soddisfazioni ai propri tifosi. Proprio l'ultima, prima di salutarle e farle gli auguri, Rastelli, un suo giudizio si è visto quell'episodio che ha fatto anche un po' arrabbiare il presidente Sebastiani sul finire del primo tempo, quando Cuppone si è fatto male, ora in ospedale ci dicono, con Aia che lo avrebbe strattonato quando doveva solo toccare la palla in rete. Allora io naturalmente ho visto Pane cercare di intervenire, poi ci sono stati due uomini che naturalmente si sono interposti al pallone, ho solo visto la palla che è uscita fuori e naturalmente Cuppone che era dentro la porta che si era fatto male. Quindi dovrei rivedere per poter dare un giudizio obiettivo. Buon Natale, buon anno e complimenti per l'Avellino dell'ultimo periodo. Buon Natale anche a voi e a tutti naturalmente i vostri ascoltatori.